Penso che la responsabilità di questa sconfitta sia del sottoscritto, è inutile che parliamo del singolo, del modulo, abbiamo cambiato un paio di volte, insomma, siamo passati in vantaggio, quindi c'era la possibilità di fare il secondo, non l'abbiamo gestito, la squadra che voleva ottenere tutti i costi e un risultato lo tiene, non ci siamo riusciti e quindi è chiaro che prima di parlare di tante altre cose che lasciano un tempo che trovano, mi piace dire che mi sento assolutamente responsabile, le critiche me le prendo tutte perché è giusto così, ma perché non è retorica, perché quando uno allena e dice vedo la squadra comunque che si fa sfuggire una vittoria così oppure prende gol dopo pochi minuti in un'altra, non mi metto ad analizzare un giocatore o l'altro, io mi sento assolutamente responsabile, prima di morire se c'errò un'altra possibilità sicuramente lotterò con tutto quello che ho dentro perché è normale che sia così, perché ho fatto sport da una vita e non accetto la sconfitta. Accetto tutto questo, faccio grande autocritica e vorrò una squadra, chiunque sia, chiunque sia, proprio adesso per me è azzerato tutto, è chiunque sia giochi a calcio, con non bene, con determinazione, con personalità, con fame, con non presunzione, tutto questo non lo posso assolutamente permettere in una squadra che alleno.